Sono Samuel di Azione Salute. Oggi vi presento la nostra ultima novità, le minicar elettriche. Hanno un design elegante e sono dotate di pneumatici da 15 pollici che le rendono stabili e sicure. Tettuccio apribile, dispositivo per assistenza alla partenza in salita, radio, USB, Bluetooth e telecamera retrovisiva che si attiva inserendo la retromarcia. Le nostre minicar offrono totale autonomia e comfort. Presenta un'ampia cabina, confortevole ed elegante, facilmente accessibile grazie ad un sedile multiregolazione. Il cambio automatico e il volante anatomico assicurano un'esperienza di guida semplice ed intuitiva. Le nostre minicar sono dispositivi medici, detraibili e fini fiscali, non hanno bisogno di patente, assicurazione, bollo o targa. Possono circolare su strada, su piste ciclabili e nelle ZTL. Contattaci per maggiori informazioni e vienici a trovare nel nostro showroom per una prova su strada.